Più volte nell'Unione Europea si è discusso di un sistema a semaforo, il cosiddetto Nutri-Score, per allertare i consumatori sulle qualità nutrizionali del cibo, dibattito sempre stoppato da alcuni paesi, Italia in primis, i cui prodotti ne risulterebbero danneggiati ed è quindi dall'Italia che una start-up propone un approccio diverso. Noi crediamo che il focus sia più nutrizionale per l'interesse del consumatore più che per l'interesse dei produttori e delle aziende, ragioniamo sempre in termini di complessità e di integrazione di informazioni diverse. Il limite del Nutri-Score è comunque il fatto che rischia di essere un po' troppo semplicistico. Si chiama Oplala, app lanciata da Cattaneo e tre amici e consente ad ogni utilizzatore di adattare al proprio profilo le indicazioni nutrizionali, non solo quindi la quantità di grassi, sale e zuccheri come nel Nutri-Score, ma indicazioni anche sulla quantità di trattamenti industriali, per esempio, e avvisi in funzione delle allergie indicate o anche sulla frequenza di consumo. Nel frattempo, però, alcuni paesi hanno già adottato il proprio Nutri-Score e tornano a spingere per una soluzione europea. Uno score valuta un prodotto singolo e diverse zone d'Europa, diverse regioni d'Europa, ma anche diverse regioni dello stesso paese, hanno abitudini alimentari e diete completamente diverse. Ragion per cui è difficile ridurre a un'unica informazione. Deve essere una questione che viene portata avanti di concerto dei singoli stati, dei singoli ministeri della salute, dove hanno fatto i progetti di educazione nutrizionale accompagnati a progetti di semplificazione. Come per altre app basate sul Nutri-Score, inquadrando con lo smartphone il codice a barre del prodotto, vengono fornite tutte le indicazioni nutrizionali con un giudizio sintetico. OPLAN, come detto, tenta di adattarsi maggiormente alle caratteristiche del consumatore e quest'ultimo può facilmente aggiungere un qualsiasi prodotto eventualmente assente dal database.